sul web da un paio di giorni si sta facendo tanto baccano sul fatto che edge sia stato tolto dall'intro di smackdown in realtà non c'è nulla di strano il contratto del lottatore con la wwe è scaduto a fine settembre come lui stesso ci aveva preannunciato e potendo teoricamente ora apparire altrove è normale che la federazione non profili un wrestler a lei non affiliato i rumor che circolano sono di un suo possibile passaggio alla all elite wrestling anche se ormai sono associati bene o male a qualsiasi combattente in uscita dalla wwe stando a fightful becky lynch è uscita dal match con regole estreme di no mercy con una lacerazione al braccio che ha richiesto 11 punti di sutura effetto becky lynch su nxt parrebbe di sì la puntata del 12 settembre quella del suo primo match contro tiffany stratton ha superato il picco del milione di spettatori raggiungendo dati di share mai avvicinati negli ultimi tre anni oltre alla sua anche le partecipazioni ripetute del judgment day e quella fissa di baron corbin stanno dando grande valore al terzo roster della federazione che continua così l'operazione in atto la cui finalità è renderlo più appetibile in sede di vendita dei diritti tv sia nel mercato nazionale che in quelli esteri zelina vega è stata nominata nella top 100 delle latina powerhouse una classifica annuale redatta dal prestigioso sito ola usa e dedicata alle donne di origine latina più influenti in ascesa e da prendere ad esempio